Il Parco archeologico di Tindari apre le porte del Teatro Antico agli spettacoli teatrali e musicali in programma per la stagione estiva 2023. Tra prosa e performance itineranti, danza e appuntamenti di musica classica, lirica e contemporanea, il cartellone degli eventi Tindaritani esprime un ampio ventaglio di proposte grazie anche agli accordi di collaborazione stretti tra i vertici del parco, il comune di Patti, le proloco di Patti e Tindari e le tante produzioni che hanno scelto la cornice del Teatro Greco. È un cartellone in grado di esaltare un patrimonio inestimabile di reperti straordinari qual è il Parco archeologico di Tindari che nei 14 siti del parco regionale, da Milazzo a Tusa, conserva testimonianze che vanno dalla preistoria all'epoca romana. Lo ha dichiarato l'assessore regionale ai beni culturali Francesco Scarpinato che ha poi aggiunto un programma ricco e variegato, quello messo in piedi dalla direzione del parco con la collaborazione di associazioni culturali, proloco e università. Una strategia di rete utile a diffondere la conoscenza di questo tesoro culturale, ha concluso l'assessore Scarpinato. Grazie per la faccio! Grazie per la faccio! Grazie.